un saluto a tutti gli amici di cultura pop ai vari ninja di konoha io sono matteo benvenuti in questa nuova video recensione oggi vi parlo di gara del deserto che ha un'assonanza anche col mio cognome tra l'altro hanno scritto poi gara di bandai e tamashi nations tratto da naruto shippuden per la linea kizuna relation qui non finiva più l'intro però ragazzi ha questo nome lunghissimo di cosa si tratta si tratta di una statua bellissima che fa parte di un terzetto di figure di cui le prime due sono state già recensite dal nostro alex poi vi lasceremo tutti i link in descrizione ma andiamo direttamente al sodo guardiamo la confezione poi apriamola e facciamo un po di considerazioni innanzitutto vediamo già che gran parte della scatola è trasparente è un piccolo blocci permette anche di vedere il volto di e gara di questo ninja fortissimo che domina la sabbia nella parte sinistra a seconda di dove non guardate nella parte sinistra della schermata in realtà nella parte destra vabbè ho detto una cacata che figura di merda nella parte destra della scatola possiamo vedere il primo piano di gara mentre in basso da questa parte possiamo vedere i loghi bandai tamashinations hanno avuto shippuden e il loghino qui lo vedete olografico di qualità tamashinations che certifica il prodotto come originale vediamo gli altri lati della confezione qui è trasparente quindi non c'è un ciuffolo da dire sul retro della confezione troviamo sasuke l'altro ninja che fa parte di questo terzetto di personaggi e poi naruto ovviamente col suo bellissimo effetto rasengan queste due sono state già recensite da alex andatevi a vedere il video se non l'avete già fatto nel retro della confezione troviamo anche alcuni particolari che l'azienda ci fa notare sul fianco della confezione non c'è un benemato da dire solamente il nome è una parte di foto della sua giara in alto vediamo il logo kizuna relation e una sagoma di gara veramente sulla scatola c'è abbastanza poco da dire la parte sotto con l'unione delle tre statue con questo effetto seppia sabbia ma siccome è uno dei miei personaggi preferiti direi di andare ad aprire la confezione peccato che non ho un bel kunai per aprire queste scatole anzi adesso me lo metterò sicuramente nel carrello amazon possiamo notare innanzitutto che il cartoncino un po più spesso hanno iniziato a farli un po più spessi e mi fa un gran piacere perché se no queste scatole si acciaccano un po tutte allora è la prima volta che viene aperto perché nella scorsa live di action figure show era stata solamente mostrata velocemente ma che figata ragazzi che figata totale andiamo a rimuovere ancora lo scotch che ci inibisce e l'apriamo a libero che cosa ci troviamo davanti quindi oh mi rimbocco le maniche ovviamente quintali di cellophane questo foglio trasparente che protegge la figura ovviamente non è che viene messo a caso o per infastidire noi collezionisti ci fa piacere che vengano messe tutte le precauzioni del caso guarda questa è una cosa particolare solitamente le figure zero non hanno questi elementi di blister aggiunto questa è una delle poche volte in cui una statua è da comporre perché ci sono anche questi effetti ammazza ragazzi vi siete divertiti ma che è non scherzo ok per voi magari è passato una frazione di secondo per me è un po di più perché era veramente avvolto in una serie di cose che non riuscivo più a staccare comunque quello che ci troviamo davanti una volta tolti tutti i blister tolti tutti i cellophane sono questi quattro pezzi qua la statua principale due elementi e uno più piccolino andiamo a vedere un po dove si vanno anche ad inserire perché io non lo so lo vedo adesso con voi ci saranno delle istruzioni che io ignorerò perché sono ignorante da questo punto di vista e voglio fare di testa mia ma qui c'è il trucco ragazzi questa cosa qua si stacca adesso la mettiamo qua facciamo con calma si incastreranno sicuramente queste due quello si incastra ecco avete sentito il clac quando sento il clac vuol dire che è andato tutto bene mi ha unto le mani vabbè e poi questo pezzettino qua si incastra qui benissimo quindi lo sorregge così e questo si incastra qua ogni parte va al suo posto niente va lasciato al caso ok la statua dovrebbe essere ok però c'è un ultimo pezzettino che non so dove va adesso cerchiamo di capirlo il piedistallo mi aiuta e non poco bene era un pezzettino che andava lì allora vi ricordo non fate come me guardate le istruzioni così evitate di perdere tempo quando andrete a montare la vostra bella action figure qui è come si presenta una volta montata ve la faccio vedere anche in piedi così la possiamo vedere molto bene gara è uno dei personaggi di naruto e naruto shippuden dove troviamo la sua versione adulta ed è il capo villaggio del villaggio della sabbia come naruto anche lui ha il potere di uno dei kyubi intanto vi faccio vedere questa statua che è veramente fortissima perché è anche grande e anche pesante e rappresenta gara in una posizione di difesa con vedete questi artigli del mostro che tiene al suo interno e poi ci sono tutti questi effetti di sabbia che fuoriescono che sono fighissimi sicuramente con le altre due vicino questi effetti di sabbia le circondano e tra virgolette li proteggono ulteriormente i dettagli sono veramente fuori di testa vi li faccio vedere da vicino particolari della gara ma anche particolari della sabbia gara soprannominato gara del deserto è un personaggio della serie anime manga naruto scritto e disegnato dal mangaka masashi kishimoto egli è il quinto kazekage del villaggio della sabbia ed è uno dei personaggi principali della storia la sua sabbia lo protegge sempre fornendogli una difesa assoluta mentre l'ideogramma che porta sulla fronte ai significa amore l'abilità di gara è la prima di cui sia notizia egli può controllare la sabbia che trasporta sulla schiena all'interno di un grosso otre e utilizzarla sia in attacco che in difesa questa abilità è data dal fatto che in lui è sigillata la reliquia della sabbia del villaggio della sabbia il demone ad una coda la tecnica distintiva di gara è il funerale del deserto che consiste nel ricoprire l'avversario con la sabbia per poi stritolarlo con una pressione tale da fare in mille pezzi la vittima se utilizzata per uccidere qualcuno la morte è così veloce che l'avversario non ha neanche il tempo di sentire il dolore gara utilizza questa tecnica anche per sgretolare pietre e minerali duri così da creare altra sabbia che viene utilizzata poi in battaglia rendendo la sua scorta di sabbia praticamente inesauribile la prima difesa è costituita dallo scudo di sabbia una barriera automatica che lo difende da qualsiasi attacco fisico in modo molto efficiente in quanto indipendente dalla volontà di gara e con un basso consumo di chakra questa tecnica appartiene unicamente a gara e la ragione per cui agisce automaticamente deriva dal fatto che è l'incarnazione della volontà di sua madre che in punto di morte dopo il parto fece in modo che la sabbia lo proteggesse per sempre per lei bene amici siamo giunti alla fine anche di questa video recensione di questa bellissima figura di naruto shippuden di gara vi ricordo i vari appuntamenti di seguirci chiaramente sui vari social ma di seguirci anche nelle nostre live ogni seconda e quarto lunedì del mese su twitch con action figure show condotto da me ed alex vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di attivare la campanella di mettere un bel like al video se vi è piaciuto di commentarlo anche se vi è piaciuto chiaramente ringraziamo ovviamente bandaita machinations per averci fornito il sample di questa video recensione troverete il link per l'acquisto poi nella descrizione qua sotto da gara del deserto e da gara da pesaro un saluto per cultura pop ciao ragazzi ciao